Dopo un iter legislativo arriva finalmente in porto la legge sui parchi, quali sono gli elementi significativi di questa legge? Ci sono state diverse riunioni, oltre 30 riunioni della Commissione Ambiente, ci sono avute due anni e mezzo, quasi tre, migliaia di emendamenti ma alla fine siamo andati in aula proprio ieri con un testo che è passato a larghissima maggioranza in Commissione c'è una modifica sostanziale della governance, il Presidente viene nominato sempre dal Ministro però il Direttore del Parco viene nominato, sentite le comunità locali, c'è più agibilità da parte delle comunità locali per portare avanti le proprie istanze, mi pare che sia una buona legge che avvicini il territorio alle decisioni romane mi aspetto anche da parte del Ministro che sarà la prossima settimana, sabato 12 alle 5 terre a Rio Maggiore per vedere la via dell'amore per arrivare poi a definire un progetto di recupero e un suo finanziamento sarà quella l'occasione per parlarne ancora più approfonditamente ma sono molto soddisfatto perché la legge sui parchi grazie grazie